Ciao a tutti, ci sentite? Benissimo. Allora, buongiorno a tutti, come vi ha detto appena Fulvio, oggi proveremo a fare gli ultimi esercizi dell'ultimo lab, quelli da risolvere a casa e proviamo a farli insieme passo a passo. E se c'è qualche domanda, potete fare tutte le domande sulla chat di Slack e andiamo a risolvere tutti questi ultimi tre esercizi. Partirò dall'ultimo, visto che è quello più difficile, poi proveremo a fare il numero 7 e poi se c'è tempo proviamo a fare il 6. Un attimo. Allora, immagino che tutti voi avete in mente questo esercizio, l'esercizio 8. Il testo era quello sui valori che c'erano in una lista e che noi dovevamo togliere il rumore di quei valori che c'erano lì. Allora, il testo diceva così. E spesso i valori raccolti durante un esperimento vanno corretti per togliere parte del rumore di misura. Un approccio semplice a questo problema prevede di sostituire in una lista ciascun valore con la media tra il valore stesso e i due valori adiacenti. Ho un unico valore se il valore in esame si trova a una delle due estremità della lista. Realizzate un programma che svolga tale operazione senza creare un'altra lista. Da quello che vi avevo detto la scorsa volta, l'altra volta che ci siamo visti qua, quando abbiamo fatto il laboratorio scorso, due settimane fa mi pare, era che prima di andare a scrivere la prima riga di codice o prima di andare a pensare al codice bisogna fare un qualcosa che ci aiuti a capire cosa ci stanno chiedendo e anzitutto che ci aiuti a capire qual è la strategia per andare a risolvere questo problema qui. Allora, in questo testo ci parlano di una lista e ci chiedono di trovare la media tra i valori della lista e quella media viene calcolata sempre con i valori adiacenti di ogni elemento di quella lista. Quindi cosa farei io se dovessi andare a risolvere questo problema? Io andrei a disegnare una lista sulla carta, andare a fare questo disegnino giusto per capire prima cosa andrò a fare e come andrò a risolvere questo problemino che c'è qua. Allora, noi abbiamo una lista come questa, giusto? Io cerco di capire prima il testo che ci parla su un approccio semplice, su sostituire in una lista, quindi non vuol dire creare un'altra lista, ma sostituire in questa stessa lista, in questa che abbiamo qui, ogni valore con la media tra il valore stesso, quindi facciamo esempio che, diciamo se io mi fermo qua, io dovrei sostituire questo valore qui con la media tra il valore stesso, quindi questo stesso uno e i due valori adiacenti, che sarebbe questo qui e che sarebbe quello successivo e quello precedente. Ovviamente in questo caso e in questo caso non abbiamo due valori adiacenti, ma solo uno, perché allora questo è il primo, questo è l'ultimo, quindi non c'è un elemento precedente del primo e non c'è un elemento successivo dell'ultimo. E quindi niente, allora questo programma ci chiede di andare a sostituire tutti i valori con la media tra il valore stesso e i suoi due elementi vicini. Allora facciamo un esempio giusto per capire come funziona. Con questo primo elemento cosa dovrei andare a fare? Allora il nuovo valore che viene messo qui sarebbe uno più il valore dell'elemento successivo, che diciamo è l'elemento successivo, che in questo caso sarebbe due e in questo caso la media viene calcolata su due, perché abbiamo fatto la media solo tra due valori, che in questo caso sarebbe uno virgola cinque. Siamo d'accordo? Perché uno più due è tre, diviso tra due, allora uno virgola cinque. Cosa facciamo nel secondo caso? Lo stesso che abbiamo fatto prima, quindi io andrei a prendere due, che sarebbe il valore diciamo di questa cella, di questa posizione, e lo sommo con tre, che sarebbe quel valore successivo, e dall'altra parte cosa faccio? Lo sumo con uno virgola cinque. Allora tenete conto che qui non andiamo a fare la somma con il nuovo valore precedente, ma con quello che c'era prima. Allora ricordatevi che qua prima c'era uno, e quindi la media viene calcolata con il valore che c'era precedentemente qua in questa posizione. Quindi non si fa con uno virgola cinque, ma si fa con uno. E allora in questo caso questa posizione, questo valore che c'è qui, viene sostituito con il risultato di questa operazione qua, che sarebbe due, nel senso che uno più due è tre, più tre è sei, diviso tre è due. Siamo di accordo fin qua? Si capisce come funziona questo programmino? Cosa ci stanno chiedendo sul testo? Benissimo. Faccio un ultimo esempio giusto per chiarire tutto. Allora questo sarebbe tre, più cinque, che sarebbe quello successivo, più due, ma in questo caso sarebbe due, perché il valore vecchio che c'era qui era comunque due. Questo è il risultato sempre due, ma noi lo facciamo non per quello che abbiamo calcolato come media, ma per quello che c'era prima. Ricordate che c'era il due comunque. Qua viene messo due, e tutto questo qua diviso tre. Bene. E se noi continuiamo a fare così, avremo che questo sarà tre virgolette, e questi sono i valori calcolati per questa lista, e arriviamo finalmente all'ultima posizione, che facciamo un po' la stessa cosa che abbiamo fatto qui, no? Quindi in questo caso noi diciamo che questo sarebbe uguale a quattro, più quello che c'era qua prima, che era uno, e non viene il diviso tra tre, ma tra due, che questo vuol dire 2,5. E quindi a questo punto abbiamo capito cosa vuol dire questo testo e abbiamo capito cosa dobbiamo andare a fare. E ci siamo accorti che, diciamo noi possiamo fare tutto questo molto semplice, ma c'è soltanto una cosa che non sappiamo finora bene come gestire, che sarebbe questo elemento qua, no? Noi non sappiamo come fare con l'elemento precedente. Perché guardate che non possiamo prendere, diciamo, il risultato della media, ma dobbiamo prendere quello che c'era prima di aver fatto il calcolo, di aver calcolato la media. Quindi non ci serve prendere questo, ma quello che c'era prima. Da questo punto di vista, noi possiamo dire che ci interessa salvare da qualche parte, prima di andare a sostituire l'elemento, ci interessa salvare da qualche parte il valore che c'era qua prima, no? E quindi ci interessa, diciamo un po', iniziamo a capire sul codice come potrebbe andare questo, e a noi ci interesserebbe, o ci serve, avere una variabile tipo alt che, ad esempio qui, nel primo caso, nel primo calcolo, prima di sostituire questo valore qui, salvasse qui uno, giusto? Poi, quando facciamo il secondo calcolo, ci interesserebbe che quel alt diventasse due, e così via. Nel terzo, allora in questo caso, alt sarebbe tre, che era il valore che c'era qui prima, prima di fare la sostituzione, e c'era questo valore qui. Quindi, un po', diciamo, iniziamo a scoprire che sul codice, che quando andremo a tradurre questa cosa in codice, ci servirebbe una variabile, o ci serve, sì, una variabile, per andare a memorizzare quello che c'era di prima. Finora abbiamo scoperto che magari questo alt dobbiamo metterlo da qualche parte. Poi abbiamo anche scoperto che ah, che ci sono due casi particolari, no? Due casi speciali. Questo, quando siamo, diciamo, quando ci siamo fermati sul primo elemento, è un caso speciale, nel senso che non possiamo andare a chiedere cosa c'è prima, ma possiamo e dobbiamo solo andare a chiedere cosa c'è dopo, qual è l'elemento successivo, quindi qua non andremo a chiedere qual è l'elemento precedente, ma solo l'elemento successivo. E qui, il contrario, non possiamo andare a chiedere qual è l'elemento successivo, ma solo l'elemento precedente. Allora, se questo qui, se questa qui è la posizione I, allora lo sappiamo bene che questa qua sarebbe la posizione I più 1, giusto? E in questo caso qua, se, diciamo questo, è un po' già iniziando a pensare sul codice. In questo caso qua, se noi andassimo a chiedere qual è la posizione I meno 1, allora lo sapete, sicuramente vi è già successo, il programma non va, vi dà qualche messaggio dicendo che siete out of index, qualcosa così, nel senso che avete provato a prendere un valore che non esiste in quella lista. Quindi c'è questo primo caso qui, e c'è anche questo primo caso qui. Allora, se questo fosse I, questo qui sarebbe I meno 1. Questo cosa vuol dire? Che quando stiamo per calcolare questo valore, dobbiamo farci qualche domanda, dobbiamo fare qualche verifica, qualche controllo per capire se siamo o nella prima posizione o nell'ultima posizione, e se quello fosse il caso, quindi andiamo a calcolare solo con il valore adiacente successivo nel primo caso, e con quello precedente nell'ultimo caso. Quindi un po' questa cosa possiamo capirla anche da questo disegnino qui. e basta. Direi che per ora abbiamo capito come funziona il programma, abbiamo capito cosa dobbiamo fare, e ci siamo messi anche a fare una soluzione per poi confrontare quello che fa il programma con quello che dovrebbe essere la soluzione giusta. Quindi andiamo un po' su Python e proviamo a fare questa cosa qui. Quindi voi conoscete già come funzionano le funzioni. Allora, facciamo questa. E poi il nostro programmino invoca quella funzione lì. E poi diciamo che la nostra lista si chiamerà misure, sarà questa cosa qui. Misure e una lista e facciamola con gli stessi numeri, così poi possiamo andare a controllare se funziona bene. 5 3 1 4 Ok, quindi fin qua noi abbiamo la nostra lista. Possiamo andare a fare print, giusto per controllare. Eccola qua. Quindi per prima facciamo la nostra funzione main, andiamo a invocare la nostra funzione main e basta. E poi facciamo un'altra funzione per per quello che ci chiede il testo di andare a fare. Allora, quella funzione potrebbe essere chiamata smooth, nel senso che ci chiede di andare a come dice, andare a correggere questi valori, quindi possiamo andare a fare smooth di quei valori che ci sono sulla lista. E questo riceve come parametro diciamo riceve un parametro che noi andremo a chiamare lista perché lo sappiamo che quello che verrà passato come parametro sarà questa lista con le misure, quindi mettiamo questo nome qui, lista, giusto per farvi, per farci capire di cosa stiamo parlando. E basta. e qui andiamo a chiamare quella funzione che abbiamo appena creato. Questo sarebbe smooth e viene messo come parametro misure. Allora, c'è una domanda, un attimo controllo. Allora, qual'era la lista finale dell'esempio, quella per la verifica, insomma. La lista è questa qui, è questa qui. Ho presso qua, ho messo qui quella che c'era nell'esempio. Dici questa e la stessa. Uno, due, tre, cinque, uno, cinque, tre, uno, quattro. Uno, due, tre, cinque, tre, uno, quattro. Dovrebbe essere così. Poi alla fine facciamo il controllo. Andiamo a vedere se funziona questa qui. Ok, poi prendiamo questo. Allora, c'è la nostra funzione. Noi più o meno sappiamo già, da qui si capisce, che dovremo andare a fare, a percorrere questa lista qua, no? Tipo andare a prendere ogni elemento e per ogni elemento andare a fare la, diciamo, andare a calcolare la media e sostituire ogni elemento con la sua media. Quindi, questo sappiamo bene che dobbiamo farlo con un for, non c'è un altro modo di farlo. e io andrei a dire for, i, in, lista. Allora, vi faccio una prima domanda. Voi sapete qual è la differenza tra fare così, for, i, in, lista o fare così? E tra quelle due, quale ci serve a noi? Eh sì, bravo. Allora, in questo caso, i diventa la posizione in cui, in quel momento, ci siamo fermati. Allora, guardate che se io stampassi, questo i giusto per vedere cosa sia, guardate che in questo caso sarà 0, 1, 2, 3, quindi questo ci rappresenta la posizione, l'indice. Va bene? Quando lo facciamo così, io sto dicendo prendi l'indice in questo rango che va da 0, diciamo, il 0 è implicito qui, e la lunghezza della lista. E quindi, in questo caso, ci stampa la posizione. E, nell'altro caso, se io al posto di fare così facessi, così, cosa ci stampa questo? Ci stampa l'elemento che c'è in questa posizione qua. Allora, non ci stampa più l'indice, ma ci stampa l'elemento che c'è in questa posizione qui. Quindi, guardate, guardate che ci stampa quello che c'era ad ogni posizione. Quindi, vi dico questo perché è spesso durante il lavoratorio fate questa domanda o fate questo e sbagliate su questa cosa, perché provate a prendere la posizione usando questo qui o provate a prendere l'elemento che c'è nella lista usando quell'altra. a volte, per alcuni esercizi, ci serve fare questo. Diciamo che a volte non ci interessa la posizione, ma per altri ci interessa conoscere dove siamo in quel momento lì, dove siamo fermi in quel momento lì. In questo caso, secondo voi, quale ci serve a noi tra quei due? Ci interessa conoscere la nostra posizione o possiamo fare anche senza conoscere la posizione. Il primo vuol dire conoscendo la posizione, giusto? Sì, quello che ho fatto. Ok. E infatti a noi in questo caso ci interessa sapere dove siamo in quel momento perché ricordate che a seconda se siamo sulla prima posizione, sulla posizione 0 o sulla posizione 0, questa posizione qua lo sappiamo che sarà la lunghezza di meno 1, giusto? Scusate, scusate, ma è difficile scrivere con questa cosa. E quindi qua lo sappiamo che siamo nella posizione 0 e qua lo sappiamo. E a noi ci interessa sapere se siamo fermi qui perché a seconda di questo ricordate che non andiamo a fare la media solo tra l'elemento in cui siamo e l'elemento successivo o l'elemento precedente. E in questo caso non mi serve questo qui ma mi serve quell'altro. Questo qui. E da quello che abbiamo visto prima, io come faccio a capire se sono al primo elemento o se sono all'ultimo? Bisogna per forza fare la domanda, no? E le domande qui si fanno tramite l'if e quindi io andrò a chiedere se i è uguale o uguale a 0. Allora, in questo caso io sono sul primo elemento e come faccio a calcolare la media in questo caso? Allora, io direi che la mia media sarà uguale a quello che c'è nella lista misure nella posizione i. A questo punto potrebbe essere nella posizione i o nella posizione 0 perché comunque lo so che in quella posizione lì diciamo che i è uguale uguale a 0 ma in questo caso mettiamo nella posizione i più cosa facciamo qui? Come facciamo a prendere l'elemento successivo? Quello che c'è nella lista nella posizione accanto accanto a a destra diciamolo così quindi sarà i più uno bravissimo perfetto e poi per calcolare la media andremo a dividere questa cosa tra due ah scusate avete visto perché qua c'è questo errore? eh sì perché dovrei usare lista sì scusate allora qua viene usata lista eccolo qua benissimo benissimo siamo d'accordo con questo con questo pezzo qui e poi c'è un altro caso c'è un altro caso particolare giusto? che sarà che sarà quando i sia quando noi siamo fermi nell'ultima posizione che sarà quando i noi sappiamo che siamo nell'ultima perché i sarà uguale alla lunghezza della lista meno uno siamo d'accordo si capisce anche perché qua non uso if ma uso elif allora in questo caso si usa elif perché lo so che se sono entrato qui non posso essere entrato qua quindi sono due cose diverse no allora guardate in questa funzione qua nel main la lista si chiama misura misure ma poi questa lista viene passata come parametro guardate che io dico allora invoco questa funzione smooth ah ok invoco questa funzione smooth e passo come parametro la lista e poi da quando prendo la lista in questa funzione inizio a chiamarla lista quindi all'interno di questa funzione noi parliamo di lista ok e ci siamo qua facciamo la stessa cosa che avevamo fatto qua prima solo che in questo caso lo facciamo con i allora si capisce perché facciamo quest'ultimo così perché lo facciamo tra l'elemento in cui siamo che sarebbe lista nella posizione i e quello che c'era e quello che c'è prima non ho capito ma perché no questa è l minuscola guardate è così dici questa ok si si giuro questa è minuscola ok allora qui abbiamo fatto la stessa cosa che abbiamo fatto qua solo che al posto di prendere l'elemento successivo abbiamo preso quello precedente e lo facciamo con i meno 1 e poi cosa facciamo in questi due casi dopo di aver calcolato la media andremo a dire che lista nella posizione i cioè nella posizione in cui mi trovo adesso sarà uguale a media e quindi guardate che in questo caso stiamo prima calcolando la media e poi andiamo a sostituire quello che c'era in quella posizione con la media che abbiamo appena calcolato quello che abbiamo fatto sul disegnino stiamo facendo esattamente quello che abbiamo fatto prima sulla carta allora i sarà uguale a media e poi c'è l'altro caso mettiamolo qua in mezzo diciamo che non interessa l'ordine ma mettiamolo qui giusto per farci capire che questo è quello che si fa con la prima posizione questo è quello che si fa con l'ultima e c'è un altro caso in cui facciamolo facciamo così facciamo questo con else sì 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 qua potevamo mettere lista al posto di mettere media avremmo potuto mettere avessimo potuto mettere qua lista nella posizione i uguale a questo qua ho messo la media giusto per farvi capire cosa stavamo facendo e per farvi vedere che prima di andare a sostituire calcolavamo prima la media e ora vi faccio vedere anche perché ci serve fare questa media allora nell'altro caso la media sarà uguale alla lì sarà più in questo caso che sarebbe quando quando noi non siamo nella allora questo else il nostro programma entra in questo else quando non siamo né alla prima posizione né all'ultima posizione ma siamo in una posizione intermedia e allora viene calcola questa media usando sia il valore precedente e il valore successivo e non fa la divisione tra due ma la fa tra tre e poi fa la solita sostituzione qui quindi secondo voi questo questo programma qui andiamo a stampare cosa risulta e vediamo se allora secondo appunto un attimo faccio la domanda secondo voi questo dovrebbe funzionare fin qua allora guardate che quando io seguo questo programma non ci funziona ancora con quei valori che dovevamo farlo perché perché non abbiamo ancora fatto la sostituzione avete visto non abbiamo ancora vi ricordate di questo alt noi non dovevamo fare la media con quell'elemento diciamo nuovo con quell'elemento che avevamo sostituito ma dovevamo farlo con il valore che c'era lì prima e quindi a me interessa prima di andare a sostituire l'elemento nella lista mi interessa salvare da qualche parte questo alt e in questo modo io riuscirei a fare il calcolo in maniera giusta allora guardate che il primo funziona il primo va bene vedete questo 1,5 qua questo funziona e funziona perché perché in questo io calcolo la media con l'elemento successivo sì sì ora faccio il ram allora in questo io lo calcolo con l'elemento successivo quindi mi funziona benissimo ma in questo non funziona perché io lo faccio con l'elemento precedente allora voi cosa fareste in questo caso per risolvere per risolvere per risolvere il problema per salvare da qualche parte l'elemento che c'era prima su quale riga andresti a modificare il programma per salvare quello che c'era prima prima di fare meglio memorizzo il dato in quell'indice ok all'inizio del ciclo cambiare lista sì allora se lo facciamo all'inizio del ciclo allora se io metto qui alt uguale a i guardate che qui diciamo non ci funziona perché alla fine quel alt sarebbe quello che c'è nella posizione in cui mi trovo adesso quindi non è l'elemento precedente ma è l'elemento in cui mi trovo in quel momento lì quindi questo alt non ci funziona qui questo alt sarebbe la stessa cosa di prendere i allora qua all'inizio del ciclo non fa niente ma per quello per quel motivo lì allora all'inizio del ciclo prima di cambiare lista ok sì forse prima di cambiare lista sì io avrei potuto creare una copia della lista di partenza quella diciamo quella sarebbe stata la soluzione più semplice ma guardate che sul testo diceva proprio senza creare un'altra lista quindi niente in questo caso non possiamo farla con questa soluzione possiamo farlo soltanto dove c'è l'else forse ora controlliamo quel lista nella posizione i possiamo metterlo fuori ah ok sì sì volendo quel lista nella posizione i possiamo dire sì facciamo quel cambio lì che sono d'accordo però lo faccio più avanti perché voglio farvi vedere cosa cosa stiamo per fare ma sì sono d'accordo questo lista nella posizione i si potrebbe fare fuori questi i e così ci risparmiamo di riscrivere tre volte la stessa cosa un'altra variabile sì per forza dobbiamo andare a creare un'altra variabile ma diciamo la domanda sarebbe dove andiamo a creare quell'altra variabile se la facciamo qui non ci serve perché alla fine quella variabile diventa i quindi non ci serve e quindi io sono d'accordo con io che mi ha detto con Antonio nel senso che prima di andare a fare guardate che questa riga qui la riga 12 e la riga 15 e la riga 18 sono le righe dove noi andiamo a fare la sostituzione quindi quello che avevamo visto qua prima diciamo quando il 3 diventa 3 virgola 3 quel pezzo qui quel passo qui quel passo lì l'abbiamo fatto in queste righe nella riga 12 15 o la riga 18 quindi prima di andare a fare quella sostituzione io cosa dovrei fare salvare memorizzare da qualche parte quello che c'è in quella posizione lì capito e io lo faccio qui lo faccio qui e lo faccio qui e sì prima di lista sì bravissimo prima di lista nella posizione i uguale a media perché vuol dire che prima di andare a sostituire quello che c'è nella posizione i della lista io andrò a salvare quello che c'è adesso in quella posizione lì prima di andare a sostituire quello che c'è qua io andrei prima a salvare quello che c'è lì a memorizzare da qualche parte perché mi serve per poi andare a risolvere l'esercizio quindi avete visto perché qui io non avevamo messo lista nella posizione i uguale a questa cosa qui perché in quel caso avrei fatto la sostituzione subito e quindi non avrei avuto questa opportunità o questa non avrei potuto salvare quello che c'era lì prima ok un attimo ora leggo questa domanda finisco qua l'espiegazione e poi andiamo su quella domanda lì quindi a questo punto io sto salvando quello che c'è diciamo facciamo una piccola prova qui andiamo a stampare cosa rimane nella variabile old e vediamo se sta funzionando bene per ora non stampiamo questo quindi funziona no? guardate che sta stampando lo stesso la stessa lista ma perché salva sempre quello che c'era in quel valore lì precedente si capisce questo passo qui quello che sto stampando ok quindi ora lo sappiamo che alt mi tiene traccia che su alt stiamo salvando subito stiamo salvando quello che c'era nella posizione che abbiamo appena sostituito quello che c'era nella posizione presente e adesso cosa dobbiamo andare a fare? cosa facciamo con quello alt e quindi io non andrò a prendere quello che c'è nella lista nella posizione i-1 perché quello che c'è nella posizione i-1 della lista è già stato sostituito e a me non serve quel valore nuovo ma serve quel valore vecchio che c'era lì e quindi al posto di dire che prendo quello che c'era nella lista Allora, quello che c'è adesso nella lista, nella posizione precedente, io andrò a dire che prendo quello che c'era prima nella lista, nella posizione precedente, e quello che c'era prima nella lista, nella posizione precedente, e questa cosa oltre. Si capisce questo ragionamento? Si capisce perché l'abbiamo fatto così? Benissimo. E poi, se noi andiamo a stampare questo qui, dovrebbe funzionare? Sì, guardate che funziona. Sì, pensate che se io non avesse separato questa cosa, questo media di questa lista nella posizione I, io non avrei potuto memorizzare quello che c'era precedentemente in quella posizione lì. E quindi è per questo che ho messo questo media, ho prima messo questo valore qui nella media, l'ho calcolato in un'altra variabile e poi sono andato a sostituire quello che c'era nella posizione lista, lista nella posizione I con media. Se io avessi fatto subito questo così, guardate che qua non c'era già opportunità di fare questo pezzo qui, di fare questo passo che ho fatto qui, questa, andare a memorizzare quello che c'era prima, non avrei potuto farlo. Perché a questo punto, lista nella posizione I, era già quello che avevamo appena calcolato. Ok, allora, andiamo a risolvere queste domande. Allora, non si potrebbe inserire old, uguale lista I. Allora, la domanda sarebbe se noi avessimo potuto mettere questo qui. Allora, cosa sarebbe successo se io avessi messo questo qui, questo old, lista, nella posizione I? Old uguale a lista nella posizione I? Meglio, facciamolo con questo qui. Se io fosse andato a fare questo old... Se io avessi messo questo old, scusate, qui. Old uguale a lista nella posizione I, guardate che non funziona, perché qua io sto prendendo l'elemento in cui mi trovo adesso, in cui sono fermo, diciamo sì, in cui mi sono fermato in questo momento. E quando vengo a fare qui la sostituzione, io andrei a fare lista nella posizione I, quella posizione in cui mi trovo adesso, e andrei a sommarlo con old, che old, a sua volta, sarebbe lista nella posizione I. Capito? Quindi io devo fare questo. Quando io faccio così, guardate che io salvo in questa variabile quello che c'è in lista nella posizione I, va bene? Poi faccio questa sostituzione, poi il programma sicuramente non entra in questo else, e rientra nel for, e quando rientra nel for, in old, io lo so che ho salvato quello che c'è, diciamo che in old, in quel momento lì si trova quello che avevo salvato nel ciclo scorso. Quindi c'è la posizione scorsa, non so se si capisce questa cosa. Se io andassi a fare old qui, quindi farei un aggiornamento con old, in modo che old diventerebbe l'elemento su cui mi trovo in quel momento. Non so se si capisce questo ragionamento, perché non si può fare così, perché non si può mettere l'old qui. Perché alla fine non sarebbe più l'old, ma sarebbe l'elemento in cui mi trovo in quel momento. Sarebbe l'elemento attuale. Si capisce perché non si poteva mettere l'old all'inizio? Allora, questa, diciamo questo sarebbe il modo per risolvere questo esercizio qui. Allora, adesso sto per fare un cambiamento, voi ditemi se siete d'accordo con questo che sto per fare, ok? E se capite quello che sto per fare. Allora, cosa succederebbe se io facessi così? Allora, cosa succederebbe? Allora, un attimo, un attimo, un attimo, avviate un po' di pazienza. Allora, lista. E no, un attimo, un attimo, ho sbagliato qui. Ok. 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 Calma, calma. Sto per finire questo e poi... Ok. 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 Allora, avete capito cosa ho fatto in questo pezzo qui? Guardate un attimo il codice e cercate di capire cosa ho fatto in questo caso. Ditemi se siete d'accordo. Sì, infatti, questo è uguale, nel senso che comunque funziona. Ok, diciamo che... Sì, bravissimo. Sì, sì, quello che ha detto proprio Matteo. Quindi, al posto di andare a chiedere all'interno del for, fare ogni volta la domanda, tu sei il primo, tu sei l'ultimo, perché lo sappiamo che quella domanda lì sarà vera solo due volte. Ma comunque, ogni volta che noi andiamo a prenderci un altro elemento all'interno della lista, facciamo quella domanda, tu sei il primo, tu sei l'ultimo. E quindi, in questo caso, quello che facciamo noi è portare fuori del for il primo e l'ultimo caso, no? E quindi io so che il programma inizia qui e per forza quello che farà per prima saranno queste tre righe che ci sono qui. E io in queste tre righe faccio tutto quello che facevo per la prima posizione, giusto? Poi il programma entra nel for e a questo punto io so che non parto dalla posizione zero dell'arreglo, della lista, ma parto dalla posizione uno. E arrivo non fino alla fine, ma fino a una posizione prima. Quindi io lo so che tutti questi elementi che ci sono all'interno del for avranno un elemento precedente e un elemento successivo. Quindi come sono sicuro che sarà così, non ci vuole fare nessuna verifica qua, non ci vuole fare nessuna domanda qui e semplicemente calcolo la media sempre con questi tre elementi, con quello che c'era prima e con quello che c'è dopo. E poi, niente, faccio la stessa cosa che facciamo prima e poi per ultimo, quando il nostro programma esce del for, noi sappiamo che ci manca ancora fare un ultimo calcolo. E quest'ultimo calcolo lo facciamo con alt, che l'abbiamo già memorizzato prima, e quello che c'è nella lista e con l'ultimo elemento della lista. E lo sappiamo che possiamo prenderlo con questo qui. E questo diviso tra due e basta. Poi facciamo la sostituzione come la facevamo prima e ci siamo. Si capisce cosa ha fatto lì? Benissimo. Questo è un altro modo di farlo. Comunque, quello che avevamo fatto prima è comunque giusto. E ve lo ripeto un'altra volta, guardate che noi non avessimo capito cosa fosse questo alt, o era difficile identificare questo alt, o era difficile identificare tutta la strategia, se non avessimo prima fatto questo diagrammino qui, se non avessimo fatto prima questo disegnino, e se non avessimo provato a risolvere questo sulla carta, e a capire come funziona l'algoritmo sulla carta. Guardate che qua, in questo disegnino, noi abbiamo scoperto che ci voleva quello, che c'erano due casi particolari, e abbiamo anche scoperto, abbiamo visto come funzionava l'algoritmo, come si faceva questo calcolo qui, e quali erano i valori con cui si calcolava la media. Quindi, vi ripeto un'altra volta, conviene sempre fare qualunque cosa vi serva a capire il problema prima di iniziare a fare il codice. Se uno parte subito a fare il codice, la probabilità di riuscire a farlo al primo colpo, diciamo, è bassa, e c'è forse il rischio che se uno non... No, allora, c'è il rischio che se non si capisce bene cosa ci chiede il testo, si va a fare una cosa assolutamente diversa, che o non funziona, o risolve un problema diverso. Quindi, il mio consiglio è quello di leggere bene il testo e fare o un diagramma, o un disegnino, o qualunque cosa che vi serva prima a capire cosa state facendo. Poi, un'altra cosa che volevo dirvi su questo era... Ah, guardate che anche questo programma, noi l'abbiamo risolto in maniera, come dirlo, come incrementale, no? Prima, guardate che abbiamo fatto quelli che ci sembravano più semplici, quei casi più facili, che sarebbe il primo e l'ultimo. Ve lo ricordate che abbiamo fatto prima il leaf per questo qua, abbiamo fatto poi il leaf per questo qui. Poi abbiamo fatto l'altro pezzo, che era quello per tutti gli altri elementi, ma guardate che fino a quel punto il nostro programma non funzionava ancora. Ma, diciamo che questo si fa in maniera incrementale, nel senso che io faccio il mio programma, faccio un pezzettino, faccio una prova, e poi aggiusto quello che ho fatto. Questo per dirvi che solitamente è anche difficile scrivere, diciamo, il programma giusto al primo colpo. Solitamente un po' bisogna andare a fare un pezzo, verificare che funzioni, se non funziona allora faccio qualche aggiustamento e continuo con un altro pezzo. Quindi provate anche, quando scoprite questa strategia qui per risolvere il problema, provate anche a scoprire quali sono i passi che potete fare come quando state scrivendo il codice, in modo di non andare a farlo tutto subito al primo colpo, ma andare a fare dei pezzettini, andare a provare quei pezzettini e poi risistemare in maniera incrementale, in maniera ciclica il vostro codice. Ah, e poi un'ultima domanda, finiamo qua con questo esercizio. Ve lo ricordate che qua c'era un alt? Secondo voi, perché ho cancellato questo alt che c'era qui? E appunto, perché eravamo già sull'ultimo elemento, quindi arrivati a questo punto qua, arrivati a questo punto qua, a me non serviva a salvare, memorizzare questo valore che c'era qui, perché niente, perché non andrò a fare questo calcolo, non c'è niente qui, quindi non mi serviva a salvare questo numero da nessuna parte. Quindi io ero già arrivato all'ultimo elemento, l'ultimo che mi interessava a salvare era questo che c'era qui, questo 1, e arrivati a questo punto non mi interessava già a salvare questo 4 da nessuna parte. Ok, rispondo un paio domande, ci sono domande, fatemi le domande adesso, se le avete fatte già mettetele di nuovo, perché non sono riuscito a leggere quello che c'era prima. Ok, Emanuele, hai capito perché non si poteva mettere l'old uguale a lista all'inizio? Ok, facendo, lo trovo presto, ok, ok, questo è uguale, valori generici, sì, ho usato dei valori generici, ok, questo apprezzo qui salva l'indice massimo della lista prima di iniziare. Ah, ok, sì, appunto, quella che, diciamo, quella soluzione che propone Massimiliano, ma cosa sarebbe l'indice massimo? Ah, capito, sì, ma guardate che quello lì sarebbe un altro modo di fare una copia della lista, quindi sarebbe come usare un'altra lista. E in questo, sì, allora, sono d'accordo, diciamo, la cosa più semplice per risolvere questo sarebbe, non aver fatto tipo lista C di copia, sarebbe uguale a misure.copy. E poi, visto che questa qua non cambiava mai, io avrei potuto sempre prendere l'elemento precedente di questa lista qua, allora io avrei detto lista C nella posizione I-1 più misure nella posizione I più misure nella posizione I-1. Allora, questa, diciamo, sarebbe stata, diciamo, questo sarebbe l'approccio più semplice per risolvere l'esercizio, no? Nel senso che io, prima di iniziare a fare tutto questo, faccio una copia di questa lista, di quella originale, la metto in questa variabile qua, lista C, e poi ogni volta che sto per calcolare una media, uso due valori della lista, diciamo, della lista misure, della lista originale, e poi il valore precedente me lo prendo dalla lista, dalla copia. Qua non sarebbe I più 1, I meno 1, scusate qua, I meno 1. Sì, allora, questa sarebbe stata un'alternativa, ma ve lo faccio vedere, giusto per spiegarvi come sarebbe in questo caso, se fosse licito fare questa copia. Ma nuovamente, niente, senza creare un'altra lista. E diciamo che è a posto, diciamo, questo esercizio è fatto così, giusto per farvi pensare su questo, andare a scoprire, diciamo, sì, per farvi pensare come salvare il valore precedente, in modo che possiate usarlo varie volte. Quindi questo è fatto posto per farvi scoprire come usare quel valore. Allora, poi il codice, sì, certo, io vi lo mando, comunque anche venerdì viene caricata la soluzione di questo laboratorio. Eh sì, andiamo a fare il 7, velocissimo. Allora, il 7 era questo qui, vero? No, allora, si allessa... Ora controlliamo quel caso di Massimiliano. Ok, facciamo questo velocissimo. Niente, la stessa cosa, abbiamo questa lista e noi dobbiamo andare a scoprire qual è la strategia per escludere il valore minimo. E in questo esercizio noi dobbiamo calcolare la somma di tutti gli alimenti che ci sono in questa lista, ma quella somma senza sommare l'elemento più piccolo della lista. Quindi la somma senza il più piccolo. E, diciamo, questo mi sembra molto più semplice, nel senso che ci fermiamo qui. Diciamo, lo sappiamo tutti, che dobbiamo fare una cosa tipo somma che all'inizio sarà uguale a 0 e andremo a sommare tutti gli alimenti. Quindi ci fermiamo qui e quindi non sarà più 0, ma sarà 3. Poi ci fermiamo qui e non sarà più 3, ma sarà 5. E così via. Nella successiva, allora, in questo caso, sarà 10. E così via. Allora, questa somma, noi sappiamo farla benissimo. Sappiamo come funziona questa somma. Poi, qual è la cosa, diciamo, diversa o la cosa interessante di questo esercizio? Questo pezzo qui. Ci chiedono di escludere il valore minimo. Allora, come faccio io a escludere il valore minimo? Prima devo trovare qual è il valore minimo, che, secondo me, anche sappiamo come fare questa cosa, no? Se a noi ci hanno questa lista qua e ci chiedessero di scoprire qual è il valore minimo, come facciamo? Allora, io potrei dire che il minimo sarà il primo. Io potrei dire che il minimo sarà il primo valore che c'è nella lista. Mi fermo qua nella prima posizione e dico, allora, così a caso, visto che non conosco tutta la lista, non so cosa sia in questa lista, io andrò a dire che il primo, il valore minimo sarà quello in cui mi trovo adesso. Quindi tre. Poi vengo alla posizione successiva, faccio la domanda. Allora, il valore della posizione in cui mi trovo adesso è minore di quello che io pensavo fosse il minimo? Allora, se la risposta è sì, allora se questo valore è minore di quello che io pensavo fosse il minimo, allora il nuovo minimo, il minimo, sarà questo qui. Capito? E così via. Facciamo, quindi in questo caso, con il 5, no, non capita niente perché quando faccio la domanda questo valore in cui mi trovo adesso è inferiore al valore che io pensavo fosse il minimo? No. Allora, continuo avanti. Questo, quest'uno, sarà il minimo minimo? E quindi la domanda 1 è minore a quello che io pensavo fosse il minimo? Sì. Allora questo diventa il mio nuovo minimo. E proprio questo valore qui, quello che mi interessa escludere dalla somma. Va bene? E questo, quello che non mi interessa andare a sommare poi sul totale. E sì, ovviamente esiste quel min lista, ma l'idea di questo esercizio è andarlo a fare noi e così diventiamo bravi a fare questi cicli sulle liste. Appunto, molti di voi mi hanno fatto questa domanda perché in questo lab c'erano tante cose che si potevano fare, che si potevano risolvere in due righe con le funzioni di Python. Ma proprio quello che stavamo cercando qui è quello di diventare bravi a fare le... diventare bravi a fare... a fare i cicli sulle liste noi, quindi sì, dobbiamo farlo o no. Andiamo a fare un'altra funzione. Allora, io sono sicuro che la somma sappiamo tutti come farla, giusto? quindi parte qui e andiamo a fare for in... Avete visto che qua, velocissimo vi faccio questo chiarimento, avete visto che qua non ho usato lo stesso che ho usato qui, ma qui ho messo for in lista perché ho fatto così? Perché a me qua non interessa conoscere la posizione, a me interessa conoscere qual è l'elemento che c'è in quella posizione qua, a me non interessa sapere se sono il primo, se sono nella prima posizione, se sono nell'ultima posizione, se sono in una posizione intermedia, a me interessa soltanto conoscere il valore che c'è in quell'elemento della lista. Si capisce la differenza? Ok, e io cosa faccio? Dico somma è uguale a somma più i. E poi stampiamo qui alla fine del for e stampiamo cosa c'è qua. e un attimo al posto di dire smooth andiamo a fare somma e 19 è giusto questo qui? E poi dal testo non si capisce che il valore minimo sia considerato tante volte. Il valore minimo guardate che qua dal testo da nessuna parte si capisce che escludendo il valore minimo quindi da questo il uno potrebbe pensare che ci stanno parlando solo di un singolo valore minimo quindi non i valori minimi ma il valore minimo e quindi facciamolo così pensiamo che questo si fa con solo un valore va bene allora prima risolviamo questo qua che sarebbe il caso più semplice e poi non c'è già tempo ma poi vi faccio vedere come sarebbe se non fosse uno solo ma se ci fossero più allora questa somma non sappiamo come farla è andata benissimo ci ha dato quanto poi all'interno di come abbiamo visto prima a noi interessava scoprire se quell'elemento in cui ci troviamo a quel punto era il minimo no? Allora io andrò a fare questo e poi voi mi dite se capite quello che sto facendo ok allora Allora, avete capito cosa ho fatto? Allora, ho iniziato a fare sempre lo stesso for, lo stesso ciclo e io andavo sempre a sommare tutti gli alimenti, tutti che c'erano, perché guardate che somma lo faccio fuori dell'if, quindi somma tutto. E poi io facevo una domanda che mi serviva ad identificare qual era il minimo, in modo che dopo di aver finito questo for, di aver fatto la somma per tutti gli elementi, io stampo, il mio risultato sarebbe quello che ho sommato di tutti gli elementi meno quello che ho identificato era il minimo. Facciamo questo qui e vi faccio vedere solo questa soluzione per quelli che mi chiedono come si farebbe, diciamo in questo caso, in cui c'era un minimo varie volte. Quindi io andrò a creare questa variabile per rappresentare il numero di volte in cui compare nella nostra lista quell'elemento minimo. E se io qua scopro che... No, no, aspettate, no, no, forse questo non funziona così. No, quella sarà più complessa perché bisogna andare a verificare se quell'elemento minimo che avevo trovato prima lo sto trovando di nuovo. Diciamo quante volte ci sarebbe l'elemento minimo. A che ora finisce questo qua? Dieci minuti prima o all'una? Ok, benissimo, quindi abbiamo ancora dieci minuti. Un attimo controllo le domande che mi avete fatto. Ok, quindi avete capito perché in questo caso non si usa il MinLista, perché l'idea è quella proprio di andare a sviluppare noi quella funzione lì per fare l'esercizio con questi cicli. Quindi da come è scritto sul testo si capisce che si controlla una sola volta. Poi se compare più volte, dobbiamo andare a ragionare come tenere traccia di quante volte compare quel valore lì. Io faccio questo velocissimo e poi voi mi dite se capite quello che ho fatto. Ok, allora. Ok, allora. Vediamo se funziona. Non sono sicuro se funzionerà, ma... Aspettate un attimo. Ah, no, no, non è qui. Aspettate, ho capito perché non funziona. E' più... E' più... E' più... E' giusto questo cosino? Qual era il valore iniziale senza questo? Quindi dovrebbe essere 17, giusto? Ok, se è uguale... Qualcuno capisce perché non ci funziona? Cosa c'è che non va in questo? Ok... Ok... Sì, allora, in questo caso... Ma io non sono sicuro... Vediamo, vediamo se funziona... Sì, sì, sì. Allora, in questo caso io dico che non è ancora successo, io l'ho trovato solo una volta, no? E quindi guardate che quando trovo un minimo, io dico che ho trovato quel minimo lì una volta, giusto? Poi continuo a fare il for. Poi se mi trovo un'altra volta lo stesso numero non entra più in questo if, ma entra in questo elif, giusto? E io dico... Allora, quel numero in cui mi trovo adesso è uguale al minimo? Se è uguale, allora cosa faccio? Dico, allora, io mi ho trovato questo qua non una volta, ma due volte. E metto qui due. Capito? E continuo a fare così parecchie volte. Poi, alla fine, guardate che quando sto per stampare il risultato, faccio la somma e poi moltiplico questo numero. Questo min sarebbe... Nel nostro caso era uno. Io moltiplico questo min per il numero di volte che ho trovato quel numero nella lista. Capito? E quindi, visto che l'ho trovato due volte, allora questo sarebbe come dire 19, che era quella somma che avevamo calcolato prima, meno quel numero lì, che è il minimo, moltiplicato per il numero di volte che l'abbiamo trovato nella lista. Avete capito come abbiamo fatto questa soluzione? Ok, guardate che queste volte abbiamo scoperto che avevamo bisogno di questo perché ci interessava dovevamo sapere quante volte trovavamo quell'elemento minimo nella lista. E quindi ci serviva per forza fare una variabile per salvare quel numero lì. E, oltre a dichiarare questa variabile, era anche importante identificare i casi in cui questa variabile veniva, diciamo, alterata, veniva modificata. Quali erano quei due casi? Uno, quando io mi trovavo un minimo che dovevo riniziare quella variabile lì, guardate questo non volte, quello che fa è riniziare la variabile lì. Perché in questo if io ho scoperto che quello che io pensavo che era il minimo non è il minimo, c'è ancora uno più piccolo, quello in cui mi trovo adesso è ancora più piccolo di quello che io pensavo fosse il più piccolo. Quindi quando ho scoperto questo caso, rinizio, metto di nuovo in uno questo numero di volte e se mi trovo il caso in cui nella posizione, l'elemento che c'è nella posizione in cui mi trovo è uguale al minimo, allora incremento questo numero di volte in uno. Sì, io vi condivido il codice, non c'è problema, ma per ora fatemi sapere se è chiaro tutto questo ragionamento che ho fatto, se è chiaro come siamo arrivati a questa soluzione qui. Ok, sì, 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 comunque guardate che l'esercizio precedente è un'altra funzione, l'ho messo qui come un'altra funzione, quindi sì, vi condivido tutto. Ok, benissimo, ci sono domande, c'è qualcosa che, qualche dubbio che possiamo risolvere in due minuti? Ok, perfetto, perfetto, benissimo. Una domanda un po' generale, quando faccio l'end di una lista mi dà un numero grande? In che senso grande? Cosa intendi per… Ah, perché… sì, guardate che quello con… Voi ve lo ricordate che quando uno va a percorrere una lista lo fa con un indice I che parte da 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi il nostro indice, visto che parte da 0, arriverà al massimo a 6 e poi quando voi mettete l'end di lista, quello vi ritornerà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Capito? Quindi se io cerco di prendere l'elemento, come hai fatto tu, diciamo, se io cercassi di prendere che quell'elemento che c'è nella posizione, che non so, diciamo, quello che c'è nella lista, nella posizione len di lista, sarebbe come dire… Io andrò a prendere l'elemento che c'è nell'indice 7, perché questo len di lista dà 7, no? Perché la lunghezza di questa lista è 7. E quindi è per questo che risulta questo errore, perché non esiste questo, non esiste un elemento qui. Questo qua non esiste. E quindi è per questo che noi andiamo sempre a mettere, per prendere l'ultimo elemento, prendiamo quello che c'è nella lista, nell'ultima posizione, nella posizione della lunghezza, meno 1, che sarà questo 6. Capito? Sì, ma è per quel motivo che facciamo sempre l'en di lista meno 1. Perché l'indice parte sempre da 0, mentre la lunghezza ci indica quanti elementi ci sono. E quindi il numero di elementi ci sarà sempre maggiore in 1 rispetto all'indice. Più o meno per questo. Ok, sì, sono d'accordo con Angelo, che magari anche potevamo fare un if per capire che la lista non fosse vuota. diventa min uguale a 0? No, no, perché guarda che quando troviamo un minimo, in un volte diventa 1, e quindi per forza funziona. Sì? Risposta a Matteo. Quando noi troviamo qua che esiste un minimo, anche se non si ripete, diciamo mettiamo 1 e dovrebbe funzionare. Ok, quindi niente, per ultimo, vi ripeto, questo vorrei fosse il mio messaggio. E guardate che questi algoritmi, questi programmi, si risolvono un passo alla volta, si fanno dei pezzettini piccoli e poi, diciamo, si va sistemando un po' tutto. E prima di andare a fare il codice, di andare a scrivere, diciamo, il codice, o anzi, prima di iniziare a pensare al codice, al forza, all'ifa, a tutte queste cose, bisogna capire bene cosa state per fare. Fare un disegnino, fare un diagramma, qualsiasi cosa, vi serva a capire bene cosa vi stanno chiedendo. E quindi direi che per oggi abbiamo finito. Avete visto quanto sono diventato bravo ad usare Zoom? E quindi niente, direi che per oggi finiamo qui. Grazie di tutto e niente, ci sentiamo sicuramente nella o in un'altra lezione. Grazie, ciao. Grazie a tutti.